Dai rischi per la salute a quelli per il portafogli. Chi compra un prodotto taroccato, dalla borsa alle scarpe, dal cosmetico alla maglietta, molto spesso non sa dei rischi che corre. A ricordarlo è un bademecum di Federmoda Conf e Commercio. Tra le insidie principali in caso di acquisti di prodotti illegali e falsificati, bisogna ricordare che i prodotti contraffatti non seguono processi produttivi a norma di legge controllati, con conseguenti inevitabili rischi per la salute. Acquistare poi un falso può costare caro, visto che si è esposti a molte che vanno da 100 euro a 7.000 euro. Contraffazione e abusivismo contribuiscono inoltre allo sfruttamento della manodopera grandestina. E inoltre ricordiamoci che la qualità di un prodotto contraffatto corrisponde al prezzo pagato dal consumatore, sia in termini di scarsa fattura, sia per la mancanza di garanzie di qualità.